a rivederci roma benvenuti pizza dopo il successo a roma il circo è andato a pisa dove i nostri eroi ti odio julian però mi stai facendo venire fame credimi ti odio julian così poco è voluto ma scusami due secondi fa lo stava tenendo in mano com'è che adesso è rimasto schiacciato i nostri amici erano a pisa dove dovevano montare un circo e allora montiamo questo circo bene quel formaggio che ho preso a roma non era un granché mi serve una cassa di tonno e mi serve subito per sciacquarti la bocca a proposito di fame devo mangiare questa torre di pizza pendente è pisa non pisa ti odio julian e cioè vuoi dire che ho saltato il pranzo per questa torre di pietra non ce la farò ti odio un momento mi farò io una torre di pisa julian ti prego rimanici schiacciato dalla torre 15 pizze oltre alla stupida cassa di pesce per il pinguino devo assaporare quella bontà al formaggio ciò che ha detto e non dimenticate di portare tutta la legna che trovate mi fa sempre comodo ovviamente certo mamma mia quanta bella pisa che ho preso a roma non era un granché mi serve certo e mi serve subito alex e gloria andate a certo a proposito di fame devo mangiare questa torre di pizza pendente mamma mia è pisa non pizza non puoi mangiarla quanto mi stai su le palle julian che ho saltato il pranzo per questa torre di pietra eh magari dovresti dare un morso almeno ti spacchi la bocca un momento un momento mi farò io una torre di pizza manco fossimo a napoli che dobbiamo andare a prenderti 15 pizze te le do io 15 pizze santo cielo devo assaporare quella bontà al formaggio ma spero che sia talmente denso il formaggio che ti si blocchi qua in gola julian mi fa sempre comodo mamma mia ricordati prendi il tonno prendi la pizza e se ti capita passa anche dal reparto del legname si sa mai eh oh devo dire che pisa però ha un aspetto già più carino anche se la fontana è la stessa di quella che c'era a roma uguale comunque beh certo guarda anche come mi confondo con l'ambiente sembra una statua gloria vatti a prendere i fiorellini allora dove è il nostro obiettivo chissà se i pisani poi parlano diversamente dai romani d'aspetto questi italiani sembrano tutti uguali oh guarda una pizza in giro per le strade proprio come in italian oh giusto dobbiamo anche affliggere altri cartelloni che cacchio ti gridi vieni un attimo qui gloria vediamo se possiamo aprirlo dall'esterno ho rovinato la copertura no possiamo aprirlo solo dall'interno ho bisogno di un po di pizze qualcuno mi venda una pizza questo carretto perché è illuminato qui dobbiamo lavorare insieme tocca gloria quindi vieni qua scusami allora cosa è servito scusa potevi farlo anche tu 1 2 cerchio ecco fatto ah ecco cosa serviva ad arrivare qui però in teoria bastava saltare non so di cosa cioè siamo solo amici è certo no solo amici come dicono tutti apriamo questo cancello va te l'ho appena dato ti ho aperto la porta altra pizza fermo altra pizza qui perché giustamente l'italia è solo coppola e pizza giustamente come tutti gli americani ci vedono ora 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 scusami un attimo qua c'è bisogno di mailman beh io penso che posso anche fare un doppio salto per gloria non so come fare vieni gloria tocca a te oh c'era una pizza che avevo dimenticato qui ottimo e lì invece ci sono dei fiori ma non penso di poterci arrivare invece ci arrivo scusa mi sono sottovalutato le tue abilità di salto gloria qui c'è una stella ottimo alex torna un attimo indietro per favore ma potevo salire anche qua sopra chissà se c'è qualcosa di nascosto ci potevano almeno tentare e stellina presa sia mai che le dimentichiamo no ora gloria se non ti dispiace raggiungi alex vediamo subito allora salta sulla corda stando molto in equilibrio ecco fatto ora la domanda è puoi sfondarlo tu quello serve mailman grazie del legno no può sfondarlo anche gloria va bene grazie di di questo tentativo e beh certo no ma no dai c'è un bel leoncino uscirebbe una bella una bella cucciolata fra di voi grazie della stellina grazie anche del legno qui cosa c'è una piccionaia beh intanto facciamo volare via i piccioni che cosa c'era ah ecco tieni gloria perché l'abbiamo distrutta poverini cioè perché ho distrutto la casa di quei poveri piccioni che persone di merda che siete ah già non siete persone allora dunque questo mi serviva per fare un piccolo saltino per prendere questa pizza quest'altra pizza nascosta e per aprirti il passaggio a te ecco qua gloria vieni qua per favore come ho detto questa cosa di questo gioco hanno fatto una cosa bella hanno messo a differenza degli altri due titoli in cui potevi cambiare il personaggio giocante che per carità era anche quella un'ottima idea ma detto sinceramente detto sincera si serve prima alex qui detto sinceramente preferisco questa meccanica ma va davvero alex chi l'avrebbe mai detto no incredibile come stavo dicendo preferisco non so come mi sia salvato preferisco questa meccanica in cui in teoria devi usarne due nello stesso tempo tempo tra virgolette e ma va l'abbiamo tirata su a fare quella corda se no alex secondo te sai cos'è strano però di di quando usi melman e gloria in realtà che il gioco ti dice che tu puoi avanzare e nello stesso tempo bilanciarlo ma in realtà è più difficile di quanto sembri è più difficile di quanto sembri perché in realtà abbiamo trovato il tonno ma non tutte le pizze ancora perché loro si ti fanno mettere in equilibrio ti fanno andare avanti ma devi proprio andare vi faccio vedere andare proprio punta e poi girare piano piano sulla corda perché qui anche se vado dritto e giro lentamente dirano ma se lo fai sulla corda è più difficile di quanto non sia ora cerchiamo un po di legno e di cartelloni da mettere e già ci siamo anche i fiorellini e le stelle ad esempio se sali qui alex se sali qui alex c'è una stellina per te e anche una pizza altre due stelline ottimo e questo cos'è legno buono a quanto siamo siamo a 6 stelline 5 fiori e 12 pizze ti tiro una pizza in faccia io fammi solo vedere una cosa quella corda qua non è quella da cui siamo arrivati e lì ci sono altre stelle e un'altra pizza e allora un che signora cos'è che va a comprarsi vabbè io intanto ecco fatto altra stellina per alex grande altra pizza vieni qua per favore rompi cassa che abbiamo bisogno anche di un po di legno c'è mortino qua dobbiamo trovare quello stronzetto intanto guarda qui quanti bei fiori per gloria tutti per te tesoro dove si nasconde quel piccolo lemure non lo so però intanto anzi forse lo so forse devo salire qua sopra se la telecamera me lo mostrasse saliamo qua sopra e vediamo se troviamo mortino e sarà contento sì ma mi manca ancora una pizza comunque no non era qui non lo so no anzi forse è no mortina qua invece almeno fammelo vedere no la lista di julian le mure a pisa va bene grazie almeno fammelo vedere che l'ho trovato no a questo circo ci andrei certo come no ok abbiamo tutte le pizze abbiamo tutti i tonni mi mancano ancora 5 stelline e un bel po di fiori in realtà fiori sono lì ma anche le stelle come arrivo là sopra non lo so ma intanto ci sono dei fiori sopra questa macchina proviamo a cercare un modo per salire ad esempio no gloria non può salire qua ovviamente ai 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 le grandi esclamazioni italiane ecco qua forse grazie della pizza forse 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 come dicevo possiamo far salire gloria con alex in qualche modo dobbiamo trovare il modo credo che l'unico modo di gloria sia fare il giro ma non so bene dove ecco fatto bravo alex a quanto siamo di stelle 12 e ora 13 ci deve essere un punto in cui gloria può salire però lì ho trovato un'altra stellina ecco fatto gloria vieni qua per favore sali qua sopra per favore ecco qua altri fiori e in tutto ciò ancora non ho trovato il modo per farti salire lì bellezza guarda io la tento ma non ci conto purtroppo che funziona invece guarda mi sto zitto la prossima volta mi sto zitto e dico guarda ci tento e basta rompi la cassa cosa abbiamo trovato il legno giustamente altri fiorellini per te e infine eccoti la fune su cui salire fune è un filo per stendere manco mezzo panno però vabbè stai dritta brava ecco qua fiorellini e altro legno me ne mancherebbe uno ma tanto lo troviamo la prossima volta quindi siamo a 14 stelle e 15 fiori vabbè non mi sforzo neanche a cercarne altri tanto abbiamo scoperto ormai che in questo gioco le stelle i fiori tutto quanti oggetti collezionabili si possono trovare anche in molte più zone ecco qua il tuo tonno e julian ti tira una pizza in faccia ecco qua ecco qua